Dati pubblicati oggi, dati secondo i quali il governo prevede che le assunzioni a tempo indeterminato con gli sgravi contenuti nella legge di stabilità 2015 e quindi la decontribuzione, quella della quale spesso vi abbiamo raccontato, siano 1,2 milioni, circa 200 mila in più della stima contenuta nella vecchia manovra, questo nella relazione tecnica al DDL di stabilità 2016. Si stima anche che le assunzioni con gli sgravi nel 2016 possano essere 1 milione. Proprio sulla proroga degli sgravi si è concentrato anche Padoan durante il suo intervento ad Assolombarda, l'assemblea di Assolombarda. Abbiamo prolungato i bonus Assunzione al 2016 prevedendo un'agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi e qui un appello agli imprenditori, è una misura importante che si è rivelata efficace ma a un certo punto scomparirà, quindi vi prego affrettatevi a utilizzarla, assumete. Dirò, aggiunge Padoan, che la politica economica del governo darà i suoi frutti quando vedremo un significativo e duraturo aumento dell'occupazione. Sentiamo. Potrò dire che la politica economica sta cominciando a dare frutti veramente importanti quando vedremo un significativo e duraturo aumento dell'occupazione. Questo è l'obiettivo del governo. L'attività del governo è basata su politiche strutturali e di bilancio in un orizzonte di medio periodo. Ci saranno meno tasse per imprese, maggior reddito per le famiglie, più agevolazioni per l'occupazione. Ci sarà e comincia a vedersi un ambiente economico che premia la competitività e ci sarà soprattutto un circolo virtuoso di fiducia, quello che se non c'è impedisce che risorse peraltro esistenti non vengano mobilitate. La fiducia è il singolo elemento più importante per un Paese come il nostro. Sono convinto che la fiducia stia aumentando e ribadisco quello che ho detto all'inizio. L'Italia è un posto fantastico per lavorare e per investire. L'Italia è un posto fantastico per lavorare e intervisto che hai bisogno di fare. Grazie.